Sindaco, come ci si sta organizzando per l'accoglienza dei profughi ucraini? Intanto con un grande lavoro di sinergia e di cooperazione tra le varie istituzioni presenti sul territorio, quindi dal prefetto, la questura, la ASL e il comune. I profughi che arrivano vanno dapprima in questura a fare una dichiarazione di presenza, dopodiché entro le 48 ore devono essere accompagnati al lab vaccinale di Colle dell'Ara, almeno per quanto riguarda Chieti, per avere un numero di iscrizione come una tessera sanitaria di quelle che siamo abituati noi ad avere, per avere l'assistenza sanitaria. Per ospitare queste persone noi faremo una specie di avviso pubblico per manifestazione di interesse a cui possono rispondere privati, alberghi, B&B e quant'altro e valieremo le situazioni migliori per l'accoglimento di queste persone. Il prefetto aveva fatto appello ai 106 comuni della provincia di Chieti, vi state organizzando anche in rete? Sì, ci stiamo organizzando in rete, ogni comune reperirà dei locali dove poter, almeno momentaneamente, perché quello che noi non sappiamo è quanto tempo poi queste persone possono o devono rimanere in queste strutture. Per quanto riguarda Chieti stiamo pensando, insieme con l'assessore alle politiche sociali Mara Maretti, la dottoressa Mara Maretti, ad utilizzare per un breve periodo di tempo i locali e gli appartamenti per le emergenze abitative.